Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale quello che state vedendo di fondo è una intro del mio amico orangotango mod o modder ragazzi che diciamo sto sponsorizzando in questo video ma il video non parlerà solo di questo ragazzi quindi tenete bene aperte le orecchie allora in questo video contest ragazzi per tutti coloro che si iscriveranno al mio canale lasceranno like a questo video che comparirà anche sul canale di orangotango mod quindi quello stesso video lo troverete anche sul suo canale perché gli lascerò il video al momento lui non può fare video e quindi lascerò questo video sul suo canale o meglio lui lo caricherà sul suo canale come dicevo chi si iscriverà ad entrambi i canali e lascerà like ad entrambi i video e scriverà un hashtag partecipo giustamente sotto ad entrambi i video avrà diritto a partecipare a questo contest ragazzi questo contest che questa settimana e penso anche nelle prossime settimane offrirà ben due account moddati quindi per le prossime settimane ragazzi ci saranno in palio aprire bene le orecchie ogni settimana due account moddati uno offerto da me maximilk e un altro offerto da orangotango mod come sapete anche io modo account ma non non li vendo non mi va di vendere account non me ne porto un ben amato cazzo e però comunque orangotango mod vende gli account fa personalizzazioni per i vostri tool vi platina un account ragazzi che è qualcosa di veramente spettacolare fa delle mod appuntino insomma delle recovery appuntino personalizza i vostri mod menu personalizza i vostri tool li rende più leggeri se volete un tool più leggero oppure se lo volete più elaborato basterà contattare orangotango mod sul suo canale e saprete tutto come avete visto nel video introduttivo all'inizio ci sono tutti i suoi contatti quindi basterà che lo contattiate e vi dirà più dettagli lui insomma ha un canale facebook ha un canale youtube che come ho già detto comparirà il video lo troverete nei miei canali amici quindi ragazzi mi raccomando andate a lasciare like sempre a questo video che troverete sul suo canale nulla come dicevo ragazzi per partecipare al contest dovrete iscrivervi al mio canale al suo canale lasciare like ad entrambi i video scrivere partecipo sotto al ad entrambi i video e nell'arco di questa settimana estrarremmo io nel mio canale orangotango mod nel suo canale estrarremmo i vincitori dei contest quindi ragazzi per vincere questo contest dovete iscrivervi in entrambi i canali giustamente per sapere quando usciranno i sorteggi di questo contest quindi ricordate io estrarò nel mio canale orangotango mod nel suo canale quindi iscrivetevi ad entrambi i canali ragazzi e se avete bisogno di una recovery fatta puntino contattatelo perché è veramente affidabile veramente in gamba detto questo vi lascio un saluto e al prossimo video ciao a tutti